musica musica ok ci sono, sono alta come te mi piace ciao a tutti ragazzi siamo ancora a Porto Gruaro siamo stati al 3 di denari suggerito da Stefano che ha commentato il nostro video di come siamo stati l'altra volta al Porto Gruaro e grazie Stefano perché il posto è molto carino il posto è molto semplice però l'oste è estremamente preparato molto gentile e ci ha fatto mangiare un piatto di un tagliere di affettati buonissimi uno più buono dell'altro e abbiamo dovuto una sfumata brutta molto buona di affettati di più però la sfumata brutta mi sono piaciuto di due e posso dire che la pancetta piccante forte molto buona buonissima buona 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 e le olive? anche quelle erano buone ma era tutto buono ci abbiamo mangiato veramente in più fanno anche delle spettacole delle serate live la console DJ ma non solo però c'era un po' di gente che siamo durante la settimana infatti è lì però comunque c'era un po' di gente qui in che zona siamo di Porto Gruaro? Borgo San Gottardo se non mi ricordo male c'era un po' di gente avevo la piantina prima e mi ero segnato gli appunti ragazzi scusateci però siamo estremamente stanchi non so sapete l'orario infatti è calato è calato il buio abbiamo dovuto cenare ci siamo sempre in giro non ce la posso fare adesso è la prossima volta ciao a tutti ciao ciao